Allora, buongiorno signor Giovanni, siamo venuti a trovarla al Palayamamai per noi di casa, perché veniamo spesso a vedere le varie manifestazioni sportive, ma in questo caso ci siamo imbattuti in una manifestazione, in un'organizzazione molto particolare da quelle che vengono organizzate abitualmente in questo palazzetto che è abbastanza conosciuto anche e soprattutto per altri sport. Siete qui a Busto in una cornice davvero numerosa, non solo di società qui locali, ma anche di società straniere che arrivano da lontano, quindi penso anche a una bella carta d'identità vedere un palazzetto così. Ci parli un po' di questo settore, il twirling, che non conosciamo e che sarà lei a spiegarci? Allora, il twirling è uno sport assimilabile alla ginnastica ritmica, ma con il fondamentale utilizzo di un attrezzo particolare che si chiama bastone, è un'asta di metallo che può avere diverse misure, è un acciaio speciale che ha una certa leggerezza, ma anche una certa consistenza e durezza. Ha due pomelli di gomma, la parola twirling significa proprio far ruotare in inglese, quindi lo sport si basa proprio sul movimento del bastone che ruota in continuazione durante gli esercizi, vicino al corpo, comunque al contatto con il corpo, oppure anche con dei lanci lontano dal corpo. Ma che attinenza c'è con lo sport, credo quasi similare, che si fa in acqua? No, 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 in acqua non c'è nessuna… Se non la coordinazione? Sì, forse le coreografie, ma non c'entra niente comunque, ripeto, è uno sport che è molto vicino alla ginnastica, quindi i movimenti di corpo sono quasi prevalentemente movimenti di ginnastica, se non danza addirittura. E qui a Busto mi dice, c'è una campionessa in questo settore? Allora, Buster Sizio tra i suoi atleti, la società che si chiama Propatria Bustese, twirling, hanno avuto tra i suoi atleti una campionessa del mondo che si chiama Chiara Stefanazzi, che adesso è passata dalla trasponda facendo il tecnico, insomma anche tecnico molto valido, però insomma nel palmarès di questa società locale c'è appunto un grandissimo titolo mondiale che è molto raro, forse come solista, diciamo come esercizio di freestyle è l'unico che abbiamo in Italia nella storia. Sento, organizzare una manifestazione come questa in ambito credo europeo, perché ho visto anche nazioni arrivano dall'estero, cosa vuol dire soprattutto, cosa vuol dire farlo al Palai Yamamai in un palazzetto che di spazio ne ha Ios? Allora, devo dirle che noi siamo stati eletti il 30 luglio dell'anno scorso, del 2016, come Consiglio federale, io sono Vice Presidente della Federazione, ci siamo trovati questa cosa tra capo e collo, per organizzare un evento del genere normalmente ci vogliono dai 15 ai 20 mesi. E quali erano le sedi che erano state proposte? C'era un palazzetto a Torino, un palazzetto a Milano ma aveva dimensioni troppo grandi e poi il Palai Yamamai che come dimensioni e come logistica era ottimale, quindi con l'aiuto appunto anche qui in questo caso di Augusto Stefanazzi in particolare siamo riusciti ad ottenere il palazzetto a condizioni veramente molto agevolate dal Comune e dalla Unendo. Ecco, tutti gli anni si fa in nazioni diverse in questi appunti? Allora, il campionato europeo è alternato con il campionato mondiale, ovvero un anno c'è il campionato europeo e un altro anno c'è il campionato mondiale. L'anno scorso il campionato mondiale è stato in Svezia e a Helsingborg, quest'anno ci sarà appunto il campionato europeo e non ci sarà quello mondiale, l'anno prossimo ci sarà di nuovo il campionato mondiale e sarà in Florida. E com'è l'Italia rappresentata in questo sport? Allora, a livello internazionale diciamo che siamo una tra le più forti anche se non la più forte, sicuramente competiamo molto con la Francia e anche magari con gli Stati Uniti ma che la fa la padrona comunque è il Giappone insieme agli Stati Uniti che sono le nazioni molto forti che fanno un po' sempre man bassa di medaglie alla fine. Ecco, siamo alla giornata conclusiva, se vogliamo tirare una riga? Ma diciamo che l'organizzazione nonostante appunto i dieci mesi, poco più di dieci mesi che abbiamo avuto per organizzare direi che è stato un ottimo risultato e si potrà sicuramente fare meglio ma comunque ci riteniamo molto soddisfatti. Come riesce a vivere una società nel vostro sport visto che insomma anche diciamo gli sponsor così ovviamente si affacciano magari su altre realtà, altri sponsor, anche altri bacini? Allora devo dire che noi dal punto di vista di sponsor siamo messi malissimo perché non abbiamo, tutti gli sponsor ci considerano uno sport che non ha visibilità pertanto fanno molta fatica ad investire, quello che le posso dire e di questo sono orgoglioso che noi siamo riusciti quasi senza sponsor ad organizzare questo campionato, per farle capire noi dai sponsor abbiamo ottenuto solamente questi cordini che vedete e delle maglie per i volontari. Quindi chi è che vi viene in conto? Solo la federazione? La federazione che in questo caso è parte in causa nel senso che è stata proprio lei organizzare e poi la federazione mondiale in parte perché quando ci sono queste competizioni in base agli numeri di iscritti, di persone iscritte dà comunque un contributo per poter organizzare che comunque è una cosa relativa. Un'altra problematica di tutti gli sport è dove farlo? Voi come siete messi sotto questo sport? Allora noi abbiamo le società, le persone che si vogliono avvicinare a questo sport devono ovviamente andare in delle palestre, lo sport è prevalentemente in palestra e deve avere una certa altezza, anche qui una difficoltà perché molte palestre magari sono bellissime però non hanno un'altezza tale per poter usare il bastone, l'attrezzo nel migliore dei modi perché ha bisogno proprio di altezze minime. Lei mi contraddirà, mi dirà stai dicendo una fesseria, però è conosciuto come uno sport tipicamente femminile. È uno sport tipicamente femminile, infatti non voglio dare numeri, però il 90-95% degli atleti sono donne, sono di sesso femminile, però c'è da dire che i pochi maschi che praticano questo sport poi alla fine sono i migliori, nel senso che le performance migliori sono fatte dai maschi. Benissimo, se vuole aggiungere ancora qualcosa, visto che siamo appunto in conclusione e comunque in conclusione anche di questa manifestazione che poi la lasciamo andare perché avrà molto da fare. Posso aggiungere che noi siamo molto soddisfatti come Consiglio federale e come federazione di come sta andando questo evento, speriamo in futuro di ripeterci e niente, bocca al lupo per la federazione. Grazie mille. Grazie mille.